Quattro imbecilli che hanno parlato mentre ho parlato, non vi perdono, e vedete di non ripetere, e ascoltate vostro nonno quando racconta la sua storia, senza pensare alla idiozia della frase che dovevate dire al vostro compagno vicino o alla vostra compagna vicina. Mi sembra impossibile che voi vi lamentiate, perché non avete abbastanza, e non vediate chi è vicino a voi e non a nulla. Non ho bisogno che vi piacervi a voi, siete voi che dovete piacere a me, e guardate chi soffre, e allora comincerete ad essere uomini. Quelli che hanno parlato durante quest'ora sono dei burattini, vergognatevi, e grazie per quelli che sono stati attenti. Bene, grazie di cuore, portiamo nel nostro cuore quello che è stato segnato per finire. Grazie per l'inizio e per l'inizio di Mr. Ribeci. Grazie. 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 Grazie.